ciao ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo episodio della bachelor challenge oggi abbiamo un bel episodio di vacanza perché dobbiamo portare in vacanza manuel e una simmina infatti le regole ci dicono trascorrete un intero giorno e un'intera notte fuori dalla casa con il sim con la relazione più alta mentre domani quindi nel prossimo episodio abbiamo trascorrete un intero giorno e un'intera notte fuori dalla casa con il sim con la relazione più bassa quindi adesso che sono tutti svegli li sto facendo un po sistemare ecco noemi deve andare in bagno aveva già fatto colazione adesso sta andando in bagno manuel tu mangia questo ok hai già intenzione di mangiarlo va bene invece cristian cosa sta facendo si è vestita che carina cristian mangia qualcosa anche tu che cosa hai non stai tanto bene che è successo ok sta facendo colazione anche lei e poi vediamo quale simmina portare fuori oggi allora come relazioni vediamo un po manuel vediamo le relazioni che ha con noemi e cristian allora noemi c'è un'alta relazione di amicizia ma è un po più basso l'amore mentre con cristian è un po più alto l'amore ma è un po più portare dopo adesso vediamo un po magari porto prima noemi perché è più alta l'amicizia proviamo prima noemi dai quindi fanno colazione li faccio preparare per questa vacanza e andiamo scegliamo uno scenario in cui andare e gli faccio trascorrere questo giorno fuori allora come scenario ho scelto granite forts e direi come lotto come casetta prenderei rifugio nella foresta perché ci sono due letti e due bagni e siccome non sono sicura se dormiranno insieme oppure no in un unico letto ecco meglio andare tranquilli e quindi prendere questo appartamento con due letti andiamo oh guardate come sono carini lui ha questo outfit proprio da escursionista mentre invece noemi ha una cosa un po più sportiva siccome lei è culturista e le piace molto lo sport l'ho vestita in questo modo sta comoda ed è ed è fresca insomma sta bene allora il tempo non è male è nuvoloso parzialmente nuvoloso quindi diciamo che possiamo stare anche abbastanza tranquilli per il momento andiamo a vedere un po l'appartamento come è fatto qui c'è una prima stanza da letto poi da questa parte abbiamo il salottino un bel salottino poi c'è il tavolo da pranzo qui fuori abbiamo un altro tavolo per per mangiare per stare un po fuori all'aperto c'è il bagno mentre al secondo piano abbiamo qui questo è il tavolo per giocare a carte sì è il tavolo per giocare a carte che carini e poi qui abbiamo altri due letti quindi abbiamo quattro posti letto un altro bagno e anche qui insomma possono rilassarsi con dei libri possono stare un po in tranquillità questa invece è la cucina guardate che carina anche questa zona della casa mi sembra di non essere mai venuta in questo in questo lotto allora cosa succede braccio bruciato per il fuoco da campeggio benissimo iniziamo proprio alla grande e fuoco accogliente dove sei noemi dove eri andata qui possiamo anche giocare all'esterno possiamo fare il barbecue ci possiamo sedere che bello veramente molto carino questo lotto molto semplice ma accogliente carino è anche molto grande per due persone è veramente grandissimo infatti penso che quando ci tornerò magari una prossima volta ci porterò una famiglia allora sono già le 10 cosa vogliamo fare in questa splendida giornata granite falls io direi di iniziare a pescare qualcosa così vediamo oh che carini ma si sono messi a guardare la tv e guardate come sono vestiti carini povera noemi è triste manuel cerca di rincuorarla un pochino perché vedi è triste per essersi bruciata il braccio rallegra ecco rallegrala un po e poi visto che siete qui accomodati vediamo cos'altro possiamo fare fatti avanti no però questo lo deve fare noemi quindi complimentati per l'aspetto e noemi tu prova un po a farti avanti con manuel prova a dichiararti un pochino facciamo lamentare dei problemi no povera altre scelte chiedi della sua giornata perché lei è a disagio quindi adesso non escono tutte queste interazioni romantiche esprimi ammirazione e facciamo anche discuti delle zone di pesca locali così andiamo anche a pescare entusiasmati per l'aria aperta sì perché a tutti e due piace l'aria aperta lui si sta mettendo a fare romanzia qui sul sul pianerottolo dai andiamo anche un po pesca guardate lei oddio sta parlando degli insetti facciamo poi discuti degli interessi facciamo anche abbraccia come sono carini ragazzi ecco qui non c'è più abbraccia fai il baciamano oddio fai il baciamano vediamo un po come la prende manuel questa cosa tra quanto tempo ti passa il bruciore tra tre ore mamma mia è tantissimo ragazzi quindi cerco di tenerli impegnati il più possibile oh che tenere guardate oh ecco qua manuel è diventato subito flertante gli basta una piccola attenzione che diventa flertante facciamo poi abbraccia benissimo e poi andiamo a pescare vi voglio portare tutti e due a pescare vediamo se manuel ha qualche desiderio in particolare con noemi sì fai fichi fichi no manuel non possiamo non puoi non puoi fare queste cose stanno chiacchierando conversazione piacevole oh si sono abbracciati belli e adesso andiamo a pescare possiamo pescare qui qui vicino sì qui c'è una zona di pesca quindi possiamo andare e facciamo vai a pesca noemi tu vuoi venire puoi vai a pesca anche tu e poi magari se riusciamo a prendere qualcosa possiamo anche grigliarlo quindi speriamo bene speriamo che questa pesca vada bene così fanno proprio cotto e mangiato subito fresco fresco acquisita l'abilità di pesca per entrambi ed eccoli qui che si lanciano nella pesca nell'avventura fatevi scattare una bella foto che carini vediamo se riescono a prendere qualcosa sono proprio super curiosa dio guardate noemi come si impegna come tutta applicata no dai noemi abbiamo preso un ramo un pezzo di legno ecco ributtalo in acqua a chi ha preso qualcosa vediamo manuel ha appena preso un esemplare di prezzemolo va bene ci può servire per condire il pesce se riusciamo a pescarlo anche noemi ha preso un esemplare di prezzemolo grazie questo ci servirà ma l'importante è il pesce manuel ha preso un nuovo pesce perca gialla americana perfetto da 1,56 chilogrammi del valore di 17 simoleon cos'altro riuscirà a pescare vediamo un po speriamo bene quindi intanto abbiamo il pranzo questo è l'importante uno ha preso uno anche noemi vediamo se ha boccato no niente noemi ritenta guardate qui quanti pesciolini ci sono dai allora va bene questa zona per pescare manuel ha preso qualcosa vediamo che cos'è pesce persico da 0,59 chilogrammi del valore di 7 simoleon e ha raggiunto il livello 2 di pesca anche noemi bravi bravissimi avete fame? ah no manuel deve andare in bagno noemi invece? noemi sta benissimo guardate com'è felice per l'aria aperta i pesci di questa zona sembrano troppo scaltri per noemi prova a pescare altrove finché la sua abilità non sarà cresciuta o lei non userà ische più preziose ecco si sta mettendo a fare romanzia anche lei mentre manuel sta andando in bagno scommetto sì e poi qui cosa abbiamo? impara a conoscere noemi questo possiamo farlo però prima voglio farti andare in bagno e poi vediamo impara a conoscere noemi lo facciamo dopo vai in bagno e noemi tu che stai qui senza fare nulla vediamo cosa è uscito scintille dalle nuvole guardare l'immensità del cielo ispira la sensazione che tutto sia possibile che carina adesso vieni qui e proviamo a grigliare quello che abbiamo appena pescato quindi ci mettiamo qui e facciamo griglia pesce fritto ah no perché c'è la manuel aspetta che lo prendo allora apriamo l'inventario di manuel e prendiamo quale prendiamo non lo so proviamo questo eccellente realtà comune lo metto nell'inventario di noemi così noemi può cucinarlo griglia pesce fritto perfetto abbiamo il pranzo il pranzo a merenda praticamente perché sono le quattro manuel è andato in bagno sta andando sta correndo ma perché non si è andato a casa che era più vicino non me la spiego questa cosa però va bene fatti questa passeggiatina questa corsetta nella natura mentre noemi invece prepara il pranzo e poi venite qui tutti e due a mangiare guardate i girasoli qui come sono belli che carino questo lotto lei è felice si sta mettendo a preparare ed è anche ispirata guardate che bella ma che brava bravissima noemi complimenti e come si impegna guardatela ah mannaggia mosche zanzare bravissima ecco qui è pronto vieni manuel vieni a pranzo qui che cos'era c'era qualche desiderio in particolare compra un cavalletto per essere ispirata no dai adesso li faccio mangiare pensa al membro della famiglia sta pensando alla mamma che carino che tenero dobbiamo fare impara a conoscere noemi quindi vieni qui e impara a conoscere noemi mettiamoci da qualche parte per mangiare ecco mettiamoci qui quindi prendiamo il pesce che hai cucinato lo mettiamo qui sul tavolo e facciamo chiama a tavola lo possiamo fare manuel prova tu chiama a tavola ok così venite a mangiare all'esterno perché comunque è una bella giornata si sta bene il caldo com'è è caldo fa molto caldo però comunque è possibile mangiare fuori si può stare tranquilli poi manuel ha anche bisogno di un bagno e fra poco andiamo a farlo e noemi noemi sta benissimo noemi è felicissima perché a lei piace tantissimo l'aria aperta ma anche a manuel se non sbaglio a questo tratto che è amante dell'aria aperta quindi stanno veramente benissimo tutti e due sono felici di questa giornata fuori finalmente insieme possono stare tranquilli rilassati e possono stare anche un pochino magari in intimità vediamo un po chiacchiera con noemi e impara a conoscere ok e poi vi mettete a mangiare oddio manuel sito che è successo qualcosa è andato storto dove posso nascondermi la conversazione è stata imbarazzante perché che hai combinato manuel anche lei manuel che cosa hai fatto ma vieni qui vieni fuori a mangiare no vabbè stanno andando dentro niente i sim non fanno mai quello che gli dico va bene così andate dentro io pensavo di farmi mangiare fuori belli tranquilli no siete andati dentro comunque sì manuel hai assolutamente bisogno di un bagno cerchiamo di recuperare questa cosa che non so cosa è successo tra tutti e due facciamo rallegra noemi vieni qui e fai parla dei sogni incontro imbarazzante ma non so per quale motivo prova a raccontare una barzelletta o a chiacchierare con un altro sim raccontiamo una barzelletta quindi facciamo parla di cucina manuel complimentati per il piatto vediamo come è uscito eccellente devi proprio complimentarti perché è stata bravissima ancora primo bacio che bello complimento sincero poi facciamo altre scelte amichevole vediamo dov'è complimentati per il piatto comunque parliamo del piatto discuti dei sapori del cibo benissimo ecco adesso è tornata conversazione piacevole meno male come sono teneri racconta una storia stravagante mamma mia manuel puzzi devi andare a lavarti assolutamente poi entusiasmati per l'aria aperta sì questo sarà un bellissimo argomento di conversazione perché a tutti e due piace l'aria aperta nel frattempo continuate a mangiare finite di mangiare così poi faccio faccio lavare manuel perché non è possibile esprimi ammirazione che carini come sono belli ragazzi quando chiacchierano così meno male che la conversazione è tornata tranquilla adesso si sta bene e lui è d'accordo gli piace questa conversazione entusiasmati per il pasto è stata bravissima e poi ci facciamo una bella foto insieme quindi scatta una foto con noemi ah no forse è meglio farla dopo la foto perché adesso non è nelle sue condizioni migliori quindi magari lo mando prima a fare un bagno e poi gli faccio scattare la foto allora manuel adesso che sei tutto bello pulito e profumato allora mettiamoci questo in frigo intanto anche se non ci servirà perché comunque domani andiamo via però magari per fare colazione facciamo colazione con il pesce fritto vieni qui e accendi il fuoco facciamo invita a passare del tempo insieme ovviamente invitiamo noemi che si è ammalata no povera oh che bello allora che cosa possiamo arrostire vediamo un po' arrostisci toffolette manuel dove vai non mi sembra il caso vieni qui manuel dai però non essere così stai passando del tempo con noemi non te ne andare a dormire cerca di resistere un po' dai non è che stai morendo di sonno facciamo racconta una storia racconta una storia di gruppo una fiaba su un serpente incantato e la raccontiamo a noemi no manuel non andare a dormire non ci pensare proprio che poi dobbiamo anche scattarci una bella foto anzi magari la foto ce la facciamo domani mattina quando noemi sarà meglio perché adesso è tutta punta povera vediamo cosa c'è tra i desideri usa interazioni buffe con noemi va bene questo possiamo farlo vediamo un po' che cosa possiamo fare stringi ragazzi che bello sì facciamo stringi perché sono carini lei sta mangiando nel frattempo facciamo aneddoto divertente e poi sì usiamo delle interazioni divertenti buffe quindi altre scelte buffo facciamo barzelletta toc toc che c'è noemi che è successo ti sei bruciata ti sei scottata la lingua penso non c'è nulla di meglio delle toffolette marroni dorate tostate alla perfezione che brava oh che bella quando la conversazione va bene anche lui sta arrostendo bravo manuel noemi proviamo anche a buttarci un pochino facciamo impara a conoscere lei sta male povera vediamo se possiamo fare qualche interazione romantica tipo vediamo un po' battuta di abbordaggio audace andiamoci con calma facciamo una battuta audace proviamo la battuta vediamo come va vediamo se manuel accetta questa battuta da parte di noemi e sembra di sì dai sta andando bene allora il fuoco si sta spegnendo prima di andare a letto mettetevi un po qui sulla panchina state un altro pochino insieme siediti manuel vieni anche tu così magari guardate un po il panorama le stelle non lo so passate un altro po di tempo insieme eccoli qua che è successo no ragazzi che sta succedendo parla di cucina no perché che cosa sta succedendo che cosa avete detto che cosa avete fatto vabbè ho capito ho capito va bene non si può non si può continuare questa giornata sono a disagio tutti e due una ha bisogno di andare in bagno l'altro vuole andare a dormire ragazzi che devo fare io sembrava che andasse tutto bene tra loro ora non so che cosa è successo che cosa si sono detti che cosa hanno fatto ecco imbarazzante vabbè andiamo a dormire domani è un altro giorno e si vedrà la vacanza sta per finire restano solo quattro ore di vacanza ti conviene iniziare a fare le valigie e a salutare va bene loro intanto stanno ancora dormendo però stanno bene stanno abbastanza bene noemi dorme su manuel dorme giù insomma ieri sera non è andata proprio benissimo ragazzi ma forse perché erano a disagio tutti e due quindi sarà per questo che che non è andata bene ora aspetto che si svegliano gli faccio mangiare qualcosa se hanno fame e poi rientriamo a casa noemi hai fame vieni a mangiare qualcosa vediamo se abbiamo qualcosa in frigo facciamo altre scelte apri vediamo se c'è qualcosa qualcosa di buono di mangiabile nulla perfetto questo è avariato benissimo facciamo servi la colazione allora servi la colazione e facciamo le frittelle mentre manuel invece è andato in bagno che adesso si sta lavando sta facendo una doccia va bene così appena sarà pronto poi verrà a mangiare anche lui speriamo di fare in tempo prima che finisca la vacanza e buon appetito ragazzi ho tutti e due vicini che belli noemi dove vai dove scappi se ne va noemi non trova pace stamattina dove sta andando ah vuole andare a giocare a esercitarsi noemi ma non abbiamo tempo dobbiamo assolutamente mangiare scattarci una foto e andare via perché è tardi ed eccoli qui una bella foto prima di terminare questa vacanza noemi purtroppo è punta da tutte le parti guardate la poverina è piena di punture e di pizzichi spero che questo episodio vi sia piaciuto nel prossimo episodio invece avremo un altro giorno di vacanza ma con cristian quindi mi raccomando attivate la campanella per non perdere il prossimo episodio e noi ci rivediamo prestissimo ciao ciao